il sesso è sopravvalutato, ve lo dico adesso lo so siete giovani avete tutti gli ormoni che vi ha dato il buon Dio e che cazzo dici a stare accadendo in mezzo ma a un certo momento succederà senza che tu lo voglia, a un certo momento dirai avrò scopato c'è un piu voglia io ve lo dico, a me non me ne fiega più cazzo no, ce lo faccio, te lo giuro lo faccio per abitudine, mi dispiace non me ne fiega più niente, lo faccio per abitudine però, sinceramente, ma ho avuto un'epifania una delle ultime volte che ho fatto sesso stavo andando anche molto bene ero sudatissimo, cazzo non è una bella immagine, lo sopra a un certo momento ho detto ma che cazzo sto facendo, ma io manco vado in palestra ma chi me lo fa fare ma vaffanculo, ma non ci penso da niente ho rischiato un infarto per un po' di vita ma a me non me ne frega niente l'ho già presa, hai fatto lo stesso momma ma vai a cagare non l'ho detto proprio così, però no, non mi interessa guardate che anche a voi che si mette sono gli ormoni, non sono i neuroni nel sesso è la pausa che fai dei neuroni sì, nel sesso i neuroni fanno ok, si scoprono dai ragazzi e intervengono gli ormoni che guidano tutta la situazione ma gli ormoni, minchia gli ormoni sono dei contadini, capito? gli ormoni sono gli ormoni sono questi non stai lì a ragionare sono i neuroni l'intellettuali della situazione sono gli ormoni qui sono gli ah, mi chiede cosa mi fa cazzo gli ormoni sono quelli che quando sei lì che stai scopando lei torna da Marte dopo un orgasmo pazzesco e ti dice ah, non sai cosa ti farei minchia tu immagini quelle porcate pitteglie che hai visto nella tua vita sto dicendo all'8 del mattino quando state uscendo di casa per andare a lavorare non sai cosa ti farei tu spereresti che la risposta sia le polpette io non l'ho felice ecco io sono arrivato al punto che anche scopando se una mi dicesse non sai cosa ti farei spererei le polpette perché se sono le polpette guarda non finiamo neanche grazie 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 a tutti.